Il Consiglio Comunale ha adottato nei mesi scorsi il Regolamento Edilizio Comunale, modificando il testotipo della Regione Siciliana, adattandolo alle specifiche esigenze della città di Sciacca. Un documento elaborato da Amministrazione e Consiglio Comunale, frutto anche di apposite interlocuzioni con il mondo delle professioni tecniche e gli operatori economici saccenzi. L'articolo 94 del Regolamento Edilizio Comunale detta le norme di rilievo urbanistico anche in ordine ai Deor, ma è comunque necessario uno specifico regolamento sui Deor che inserisca norme di dettaglio in ordine alla tipologia degli interventi ammissibili, anche prevedendo una zonizzazione della città. A distanza di mesi non è stato ancora predisposto. La questione al centro oggi di una interrogazione è presentata all'Amministrazione Comunale dal Consigliere Ignazio Bivona che peraltro ricorta come da tempo sia stata presentata da alcuni colleghi consiglieri Paolo Mandracche e Filippo Bellanca, una bozza di regolamento senza che la stessa abbia intrapreso alcuni itar finalizzato alla predisposizione di un atto deliberativo da sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale. Il 12 giugno scorso, aggiunge Ignazio Bivona, si è svolta una riunione delle commissioni consigliari competenti e si è preso in quel contesto che l'Amministrazione Comunale non ha predisposto alcun regolamento sui Deore che si sta lavorando su un testo che possa contemperare la bozza inviata dai consiglieri comunali e la proposta dell'Aggiunta. Siamo a fine giugno, la stagione estiva è ormai in corso e per il Consigliere Ignazio Bivona l'esigenza di avere un regolamento sugli spazi all'aperto è particolarmente sentita in città, in particolare dagli esercenti le attività di somministrazione. E nelle cose che in una città turistica, aggiunge il Consigliere di Opposizione, il regolamento debba essere approvato prima dell'inizio della stagione. All'Aggiunta Termine, Ignazio Bivona chiede spiegazioni sulle ragioni che ad oggi non hanno consentito al Comune di Sciacca di dotarsi del regolamento sui Deore e la tempistica per arrivare all'adozione del documento.